Cronaca Vespa contro Bus Cronaca Tragedia in Mare a Pineto Turista milanese annega sotto gli occhi dei bagnanti Asle Teramo nuovo manager tra dieci giorni Per chi odi questa non è la regione facile e veloce di D'Alfonso Teramo nasce un nuovo gruppo misto in consiglio comunale Con i consiglieri Sbraccia e Micheli Team entro la fine di agosto i nuovi vertici Brucchi consulta anche la minoranza Asfalti a Teramo oggi lavori in Viale Crispi Nei prossimi giorni in Via Po e Viale Mazzini Isola del Gran Sasso il sindaco di Varano Revoca l'incarico all'assessore Di Pietro di Selle Per mancanza di fiducia Eventi da domani al 10 agosto a Leofara La notte delle paure a Basciano la sagra del prosciutto Sport e calcio soddisfazione nel Teramo Per l'insediamento dei Biancorossi nel Girone B Palla a mano donne L'HF Teramo ufficializza l'ingaggio delle sorelle Canessa Perez Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte Un incidente mortale si è verificato all'interno della galleria di Piaganini Alle porte di Montorio al Vomano lungo la statale 80 Teramo-L'Aquila Un centauro è deceduto nello scontro tra la sua vespa e un pullman di linea Con lui viaggiava un'altra persona rimasta gravemente ferita Il giovane morto è Matteo Cerci di 34 anni di Nerito di Crognaleto Il giovane che viaggiava con lui è un 24enne residente sempre a Nerito ma di origini polacche Sul posto sono giunti i soccorsi, vigili del fuoco da Teramo, ambulanza del 118 e della croce bianca di Montorio Oltre ai carabinieri La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire Si tratta del secondo incidente di una certa gravità negli ultimi due mesi Il 7 giugno scorso sempre una motocicletta con due persone a bordo si schiantò contro le pareti del tunnel Dopo che il conducente ne aveva perso il controllo Entrambe rimassero feriti gravemente Un anziano turista milanese Ezio Costantino di 77 anni è negato nella tarda mattinata di oggi Nel tratto di mare antistante la spiaggia di Pineto Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe accusato un malore mentre nuotava E si è trovato in difficoltà ma quando i soccorsi lo hanno raggiunto per lui non c'era più nulla da fare Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della locale stazione Cambiamo completamente argomento, occupiamoci della ASL Oggi il presidente D'Alfonso annuncia che ci vorranno altri 10 giorni per nominare il nuovo direttore generale dell'ASL di Teramo Siamo ad un mese dalle dimissioni del dottor Paolo Rolleri che è decaduto dal giorno 1 agosto E questa la regione veloce e promessa in campagna elettorale? Ci vuole un mese per nominare un direttore? Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Gianni Chiodi In merito alla nomina del nuovo direttore dell'ASL di Teramo Nei 5 anni precedenti, aggiunge Chiodi, non è mai accaduto che un ASL rimanesse anche solo per un giorno senza vertice Con i poteri sostitutivi delegati al direttore sanitario Si può comprendere un tempo ragionevole per discussioni, valutazioni e riflessioni Ma se ci vuole un mese per una nomina, conclude Chiodi, vuol dire che la regione è facile e veloce altrove, non in Abruzzo E a proposito di nomine, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha le prese con l'esame dei curriculum per la nomina dei vertici TEAM Con ogni probabilità una decisione sarà presa entro la fine di agosto E oggi intanto i capogruppo dell'opposizione incontrano il primo cittadino Ascoltiamo Brucchi Sindaco Brucchi, oggi per il capogruppo del Movimento 5 Stelle e anche gli altri gruppi In Consiglio Comunale c'è stata una convocazione da parte sua sulle nomine della TEAM Ma qual è l'obiettivo di questa convocazione? L'obiettivo è quello di ascoltare il pensiero dei vari gruppi consigliari di opposizione e di maggioranza Io credo che dovrebbe essere apprezzato un alteggiamento di questo genere da parte del sindaco E' chiaro che c'è un regolamento che mette in capo al sindaco poi la decisione Però mi sembra anche giusto e opportuno che io ascolti un po' tutte le rappresentanze consigliari Quindi parleremo un po' della TEAM, parleremo un po' di queste nomine E sarà anche utile per me per poi farmi un'idea per poi decidere chi nomina la TEAM Ecco, tante candidature Il lavoro è abbastanza lungo in questo caso del sindaco, no? Il lavoro è abbastanza lungo 39 candidature per la carica di presidente di consigliere 19 per la carica del collegio di presidente e membro del collegio dei revisori Quindi io sto guardando tutti quanti i curricula, sono anche molto corposi Quindi comunque è un lavoro importante Io credo che appena terminata questa fase bisognerà fare l'assemblea E quindi ci vorrà la disponibilità sia del custode giudiziario E dell'altro socio del mote per poter poi convocare un'assemblea E in assemblea ratificare le nomine Quindi insomma siamo Una tempistica possiamo darla indicativamente? Guarda, io direi che entro il mese di agosto verranno fatte le nomine Ora è chiaro che siamo arrivati un po' a ridosso delle ferie Anche se io non vado in ferie, sono qui Però voglio dire, insomma è chiaro che non è sicuramente un momento favorevole Ora se passano una settimana, due settimane, tre settimane Diciamo che entro il mese di agosto comunque le nomine verranno fatte E oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini Ha incontrato il sindaco Brucchi per discutere delle nomine TEAM Si dovrà infatti procedere alle seguenti nomine Presidente del Consiglio di Amministrazione, un consigliere Presidente del Collegio Sindacale ed un sindaco effettivo Il sindaco, continua Fabio Berardini nella nota Ci ha riferito l'intenzione di effettuare delle nomine più tecniche che politiche Basate su curricula pervenute e che non sarà concessa alcuna nomina di garanzia all'opposizione Abbiamo chiesto quindi che tali curricula siano pubblicate il più presto online Per dar modo a tutti i cittadini interessati di poter valutare nel merito tecnico Le scelte che saranno operate dal sindaco Cogliamo l'occasione, conclude Fabio Berardini Per sottolineare che la TEAM ha negato l'accesso agli atti e consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle E che ripresenteremo a breve la richiesta per i consuntivi dei volumi del servizio di raccolta differenziata Pare infatti che ci siano gravi anomalie tra i volumi presunti su cui viene basata la tariffa E quelli reali di cui non abbiamo dati ufficiali da parte della TEAM E a proposito del Movimento 5 Stelle esultano per la prima vittoria al Comune di Teramo Rinnovate da giornata infatti la sezione trasparenza del sito web della Teramo Ambiente Ascoltiamo proprio Fabio Berardini Fabio Berardini per commentare quella che si è definita la prima vittoria del Movimento 5 Stelle al Comune di Teramo Giusto, la sezione trasparenza del sito web della Teramo Ambiente è stato aggiornato Sì, noi abbiamo tramite i nostri gruppi di lavoro ci è stato segnalato questa apertura, questa rinnovazione della sezione trasparenza Dopo che noi più volte abbiamo chiesto più trasparenza circa alla Teramo Ambiente Abbiamo appunto notato che è stato inserito il bilancio consuntivo 2013 approvato a maggio di quest'anno Con i relativi allegati Ovviamente tutte le altre sezioni però sono ancora carenti dei documenti E quindi noi torneremo a chiedere che questi documenti siano caricati su questo sito web Comunque è un punto di partenza e una prima vittoria per il Movimento 5 Stelle Poi oggi possiamo dirlo, è arrivata anche la convocazione da parte del Sindaco sulle nomine della Team per i singoli capigruppo, giusto? Esatto, noi siamo stati convocati oggi dal Sindaco E proprio per parlare delle nomine Team Ecco, questo ci appare abbastanza strano Visto che in Consiglio Comunale ci sono stati bocciati tutti gli emendamenti Proprio per inserire nel regolamento per la nomina di queste cariche Più trasparenza e più condivisione Invece adesso il Sindaco fa un passo indietro e convoca i capigruppo Adesso noi non sappiamo ancora cosa ci vorrà dire Ma sicuramente chiederemo di pubblicare i curricula dei candidati Per dare modo ai cittadini terramani di valutare nel merito le scelte dell'amministrazione E restiamo al comune di Team perché nasce un nuovo gruppo misto in Consiglio Comunale E' composto da Domenico Sbraccia, candidato alle scorse elezioni con i Popolari E Raimondo Micheli, candidato con il nuovo centrodestra che sarà il capogruppo Sbraccia, dopo le polemiche post-elezioni, aveva annunciato di voler creare un suo gruppo Ma il passaggio di Micheli nel gruppo misto è stata una sorpresa Non vogliamo avere padroni che decidono per noi, ha detto Sbraccia, raggiunto telefonicamente Vogliamo essere liberi Il nuovo gruppo misto appoggerà la maggioranza di centrodestra Ma, ha detto Sbraccia, sulle decisioni da prendere valuteremo volta per volta Il forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio sul territorio terramano Ha causato allagamenti e disagi Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per rimuovere alberi di velti, fango e acqua Molte le zone allagate, soprattutto a Villa Lempa Che è stata la località che ha subito più danni dalla forte pioggia Allagamenti anche a Teramo, città Il centro commerciale Megalò di Chieti è stato evacuato per circa un'ora nella tarda mattinata Per un principio di incendio di natura elettrica Che ha riguardato l'impianto di illuminazione di un negozio di abbigliamento Le fiamme, che sono state subito spente grazie all'intervento di alcuni abdetti del centro commerciale Hanno provocato solo fumo, ma non ci sono stati intossicati e né danni Sul posto sono intervenuti ed hanno operato per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco di Chieti Oltre a polizia e carabinieri Il fatto non ha provocato alcun danno di natura strutturale al negozio L'evacuazione si è resa necessaria per liberare i locali dal fumo L'attività del centro commerciale è ripresa e va avanti regolarmente Aveva 74 anni e era stato colpito da un malore un mese fa L'imprenditore della liquirizia Mario Menozzi è deceduto la scorsa notte nell'ospedale di Atri A Menozzi è legata la storia di uno dei marchi più conosciuti dell'industria della liquirizia La Menozzi De Rosa Un mese fa Mario Menozzi fu colpito da ictus I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella cattedrale della città Ducale Sono iniziati i lavori di sistemazione del manto stradale di Viale Crispi a Teramo Per ora pochi disagi per il traffico Si passa a senso alternato Nei prossimi giorni nuovi lavori in Via Po e Viale Mazzini Il servizio Dalle 5 di questa mattina sono iniziati i lavori qui in Viale Crispi Sul campo a controllare che tutto vada per il meglio Qual è un po' il progetto per questi lavori? Sì, qui a Viale Crispi avevamo ancora alcune criticità Di alcuni tratti dovuti quando si fanno dei lavori Soprattutto si intervengono sui sottoservizi In passato non viene rimesso del materiale buono Cosa che noi ultimamente chiaramente controlliamo E là dove serve non svingoliamo neanche le polizze Che chiaramente quando vengono fatti questi lavori I riempimenti devono essere fatti con un certo tipo di materiale Che evita poi che si rovina l'asfalto In queste zone quindi stiamo intervenendo Stiamo bonificando Quindi non semplicemente rifacendo l'asfalto sopra Ma levare il materiale che c'era E rimettendo del misto cementato Criticità per fortuna al traffico Non più di tanto perché insomma Abbiamo scelto il mese di agosto appunto Con le scuole chiuse insomma è un vantaggio Assolutamente con le scuole chiuse E agosto insomma è notorio che c'è meno traffico Poi devo ammettere sia l'ufficio Che la ditta si sono organizzati In modo da creare meno disagi possibili Quindi la circolazione è garantita a senso unico alternato In alcuni tratti dove lavoriamo a metà carreggiata Abbiamo messo i divieti sosti in modo che le macchine possano passare ai lati Quindi anche come criticità insomma sul traffico non le registro Si ha idea indicativamente sui tempi di riconsegna dei lavori Diciamo così Sì, qui a Via Le Crispi Tutte da oggi e anche tutte domani Perché per il momento stiamo scavando E riempiremo con il binder Intanto per dare la possibilità di transitare Penso nella giornata di domani Si completerà l'opera facendo il tappetino finale Ecco per chiudere poi si sposterà in qualche altra zona di Teramo Sì assolutamente Noi ricordo abbiamo fatto già qualche frazione La settimana scorsa siamo intervenuti in via Fonte Reggine e in via Pepe Se procede secondo i tempi così come sono stabiliti Ci dovremmo trasferire poi in via Po E poi successivamente in centro in via Le Mazzini La confartigianato esclusa dal documento congiunto Siglato dalle altre associazioni datoriali terramane Per chiedere al sindaco Brucchi riduzioni sulla tariffa dei rifiuti In vista dell'approvazione del nuovo regolamento Tari A denunciarlo è lo stesso presidente di confartigianato Teramo Luciano Di Marzio Che oggi ha scritto al primo cittadino Per avere un incontro prima del via libera regolamento Ci dispiace moltissimo Polemizza Di Marzio Che i nuovi presidenti appena insediati di Confindustria Ercole Cordivari e dell'API Alfonso Marcozzi Non abbiano notato che nella lettera appello al sindaco Mancava la firma della Confartigianato L'associazione è presente in provincia di Teramo dal 1945 Il presidente si rivolge dunque a Brucchi Affinché vengano convocate tutte le associazioni datoriali E siano recepite tutte le richieste avanzate Dai vari organismi di categoria Seduta sofferta quella di ieri in consiglio regionale Dove la maggioranza è andata in difficoltà Dure le opposizioni sono i primi segni di cedimento Sentiamo A giornata a giovedì prossimo la riunione della commissione regionale bilancio Dopo una giornata di roventi critiche da parte delle opposizioni Provvedimenti essenziali che serviranno per migliorare l'efficienza e l'efficacia Dell'attività della regione Così i capigruppo della maggioranza di centro-sinistra Hanno difeso l'operato della coalizione in commissione In particolare sui due progetti di legge Per la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione Abruzzo E per la riapertura dei termini per le nomine negli enti regionali Non c'è stata alcuna perdita di tempo Hanno sottolineato Né ci sono state valutazioni differenti all'interno della maggioranza Abbiamo invece lavorato in commissione e nella stessa maggioranza Per esaminare anche alcune proposte formulate dalle opposizioni Che per noi meritano un approfondimento Perché siamo convinti che il metodo da usare Sia quello del confronto sulle proposte Soprattutto per ciò che riguarda la realtà organizzativa del governo della regione Gli esponenti della maggioranza di centro-sinistra Hanno ribadito la loro volontà di proseguire nell'approvazione dei due progetti di legge Approfondendo il dibattito in commissione Per poi arrivare in aula con un testo condiviso da approvare entro ferragosto Ma nel progetto di legge di modifica dell'organizzazione del personale C'è anche la nuova figura del direttore generale della giunta regionale Che farebbe parte dello staff del presidente Rappresentato dal segretario della presidenza della giunta Costituito dall'ex governatore di centro-sinistra Ottaviano del Turco E il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari Ha sottolineato l'aggravio di costi Evitare una pericolosa deriva autoritaria E un aumento dei costi di funzionamento della macchina regionale Ha detto, aggiungendo Apprezziamo che alla seduta ha partecipato anche il presidente regionale D'Alfonso Ma speriamo che non intervenga ai lavori solo quando sono all'esame iniziative a lui care Di Dalmazio ha polemizzato invece sulla seduta del Question Time Rinviata per l'assenza della maggioranza Boccia la maggioranza il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo In questi giorni sono state spese tante belle parole Espressioni tipo rivoluzione Annunciando la seduta di ieri E il clima di grande laboriosità che si sarebbe respirato in consiglio regionale Ma come abbiamo visto chiaramente dalla riunione del Question Time I banchi della maggioranza di centro-sinistra e dell'esecutivo regionale Erano mestamente vuoti Dopo Marte Insicuro I controlli contro l'abusivismo degli ambulanti extracomunitari Spiaggia hanno toccato anche Tortoreto I carabinieri della locale stazione hanno bloccato due decine di cittadini Stranieri senegalesi e bengalesi Trovati senza autorizzazione al commercio su aree demaniali e marittime Le sanzioni sono state in totale otto per una montare di circa 30.000 euro La merce è stata sequestrata Ma gli extracomunitari erano tutti in regola con i permessi di soggiorno In Abruzzo quest'estate sono previsti un milione e mezzo di visitatori La Confartigianato, ricordando il ruolo centrale dell'artigianato anche nel turismo Chiede un progetto regionale per valorizzare il territorio Sentiamo L'Abruzzo quest'estate sarà invaso da 1,5 milioni di visitatori Di cui il 12,2% stranieri La permanenza media, intesa come numero di presenze per ogni arrivo Sarà di 4,6 giorni A rivelarlo è un'indagine effettuata dalla Confartigianato Che chiede un progetto di valorizzazione del territorio Che miri ad esaltare le eccellenze E che sia finalizzato allo sviluppo di un percorso formativo Degli operatori di settore non sempre impeccabili dal punto di vista professionale I dati riferiti ai mesi estivi di due anni fa Evidenziano che Teramo è la provincia con il più alto numero di giornate Per presenza di turisti 7 e 12,1 presenze per abitante Nella provincia di Pescara invece si registra Il più alto tasso di presenze di stranieri Rispetto al 14,1% di Teramo L'artigianato ha un peso specifico nel comparto turistico abruzzese Dove le imprese artigiane di settore sono oltre 5.000 Pari al 15,3% del totale del comparto Sono concentrate per lo più nell'abbigliamento Nelle calzature, nell'agroalimentare Nei ristoranti, nelle pizzerie E nelle altre attività manifatturiere e dei servizi La maggior parte delle aziende artigiane del settore del turismo Sono in provincia di Teramo Anche se in calo del 3% rispetto al primo trimestre del 2013 Il turismo, spiega il direttore regionale della Confartigianato Daniele Giangiulli Può rappresentare anche per l'artigianato Una ghiotta opportunità per arginare la crisi Ma serve che le istituzioni regionali Diano vita in fretta ad un ampio progetto di promozione In grado di fare del turismo una vera risorsa dell'Abruzzo A Montorio-Alvomano multati 7 cittadini Che non hanno rispettato le regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti Vediamo Giro di vite sulla raccolta differenziata dei rifiuti a Montorio-Alvomano Ad annunciarlo l'assessore comunale all'ecologia, Agnese Testa Dopo alcune anomalie riscontrate lungo le strade del capoluogo e delle frazioni Finora sono state già effettuate 7 multe a privati cittadini Il cui importo varia dai 100 euro ai 600 euro A fronte di altrettante infrazioni accertate dal controllo di sacchi neri Rinvenuti ai margini delle strade in contrada a Torrito E lungo la strada che porta a Cusciano Le infrazioni sono state registrate a seguito di un controllo congiunto Al quale rappresenta anche l'assessore Testa Tra personale tecnico del comune, la polizia municipale E il personale della società che gestisce la raccolta differenziata Il mancato rispetto delle modalità del conferimento E l'abbandono dei rifiuti Sono dunque stati sanzionati con 7 verbali Che verranno notificati nei prossimi giorni Presso le abitazioni dei responsabili Individuati tramite alcuni indizi rinvenuti nei sacchi Le attività di controllo con tolleranza zero per i trasgressori Ha spiegato l'assessore Proseguiranno anche nelle prossime settimane E saranno stesse a tutto il territorio comunale Incluso le frazioni Ad Isola del Gran Sasso il sindaco Alfredo Di Varano Ha revocato l'incarico all'assessore Di Pietro in quota a SEL Le motivazioni? Mancanza di fiducia e assenteismo Del oramai ex assessore dalla vita amministrativa Si è consumato ieri lo strappo in giunta Al comune di Isola del Gran Sasso Il sindaco Alfredo Di Varano Ha firmato la revoca dell'incarico di assessore A Enzo Di Pietro di SEL A determinare la revoca le posizioni fortemente critiche nei confronti dell'amministrazione comunale Assunte oramai da tempo dall'oramai ex assessore all'ambiente e alla cultura Dice il sindaco Di Varano Posizioni che hanno determinato il venir meno del rapporto di fiducia Posto alla base della nomina Non solo mancanza di fiducia ma anche l'astensionismo non è stato gradito dal primo cittadino di Isola del Gran Sasso Dal 2 maggio dice Non partecipa alla vita amministrativa Pur essendo regolarmente in carica e percependo la relativa indennità di funzione La rottura si è acuita in questi ultimi giorni A seguito degli atti prodotti dall'esponente Vendoliano Interrogazioni e emozioni scrive il sindaco di Isola Tipici di un'azione di opposizione che oggettivamente rende incompatibile la presenza dell'assessore Nella giunta comunale Non si è fatta attendere la replica di Di Pietro e del coordinatore provinciale di SEL Stefano Ciccantelli Che parlano di motivazioni alquanto discutibili Che tagliano di netto il dialogo sulle questioni sollevate da tempo Messe per iscritto attraverso mozioni e interrogazioni Che hanno lo scopo di sollevare e risolvere i problemi della comunità Ora scritte e protocollate perché quelle verbali non vengono considerate Alla fine continua la nota congiunta con il coordinatore Ciccantelli Pur di non cambiare rotta su alcuni temi importantissimi nella gestione del bene comune I poteri forti hanno scelto di cacciarci dalla giunta Mettendoci all'opposizione Visto l'epilogo di questa triste e alquanto ridicola vicenda Noi di SEL si legge nella nota Non arretereremo di un solo passo su queste battaglie di etica pubblica e civiltà E' arrivata alla regione Abruzzo la risposta da parte del Ministero delle Infrastrutture In merito alla proposta di finanziamento per la messa in sicurezza di edifici scolastici Nella nota ministeriale si legge che gli interventi segnalati come prioritari da parte della regione Hanno trovato accoglimento per un totale di 15 scuole in tutto l'Abruzzo Che verranno finanziate grazie ad una riprogrammazione delle risorse Tra gli edifici ammessi, commenta Sandro Mariani del PD In provincia di Teramo sono state finanziate rispettivamente la scuola comunale di Cortino Per un importo pari a 100.000 euro E la scuola secondaria Nicola Palma di Campri per un intervento pari a 180.000 euro Si tratta di interventi importanti per la messa in sicurezza del patrimonio scolastico Che prevedono tra l'altro un'immediata canteriabilità dei progetti E dunque una rapida realizzazione degli stessi Ritardo per l'inizio dei lavori del ponte sul Vomano nonostante il preliminare sia pronto da tempo Il motivo è la mancata pubblicazione del bando di gara per la progettazione definitiva A causa dell'assenza della convenzione con una delle due direzioni regionali coinvolte Per accelerare l'iter la provincia ha convocato un incontro per giovedì 7 agosto Con i soggetti interessati alla problematica e al servizio Il preliminare è pronto da tempo ma si attende alla convenzione con la regione E segnatamente con la direzione del ciclo idrico integrato per il finanziamento di 3.100.000 euro Mentre è già stata firmata quella con la direzione dei trasporti per un importo di 2.900.000 euro Il nuovo ponte sul Vomano a Castelnuovo Struttura che da progetto della provincia dovrebbe essere realizzata al posto dell'attuale È un'opera che sulla base di quanto previsto dalla delibera di giunta regionale 285 del 16 aprile 2013 Dovrebbe essere beneficiaria di un finanziamento mirato alla riduzione del rischio idraulico In corrispondenza del ponte sul fiume Vomano Ma la pubblicazione del bando di gara per la progettazione definitiva È ritardato dalla mancanza della convenzione con una delle due direzioni regionali coinvolte Quella appunto che sovrintende al settore del ciclo idrico integrato Con l'obiettivo di comprendere meglio e magari rimuovere le situazioni ostative Ho convocato una riunione con i responsabili delle direzioni regionali Alla presenza dei due sindaci dei comuni coinvolti Quello di Castellalto e quello di Cellino Dichiara l'assessore provinciale alla viabilità Massimo Vagnoni Perché è diventato urgente conoscere lo stato di avanzamento dell'iter procedurale complessivo Di competenza regionale al fine di dare seguito quanto prima All'attuazione di un intervento tanto atteso dal territorio L'incontro è previsto per giovedì 7 agosto alle 12 negli uffici dell'assessorato provinciale Domani alle 10.30 il gruppo dei podisti di Montorio Alvomano Che compone la fiaccola della speranza Parteciperà all'udienza del mercoledì che Papa Francesco Terrà in Vaticano nella Sala Nervi Nel corso dell'udienza il Papa accenderà la fiaccola Benedetta nel 1994 da Giovanni Paolo II E nel 2009 da Benedetto XVI La fiaccola della speranza riparterà poi da Roma Portata in staffetta dai podisti di Montorio Lungo il percorso correranno due podisti per volta Per un tratto di 10 km ciascuno La fiaccola che farà delle brevi soste lungo il cammino Arriverà a Montorio dove resterà fino al 19 agosto nella chiesa di San Rocco Da qui ripartirà in serata la volta del santuario di San Gabriele Dove arriverà la sera del 19 agosto intorno alle 23 Per dare il via ufficiale alla 34esima Tendopoli Ad accoglierla ci saranno proprio i ragazzi della Tendopoli E torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la Notte delle Paure Leofara da domani fino al 10 agosto In programma lo spettacolo teatrale in Fausto Pianeta Il servizio Dal 6 al 10 agosto Leofara torna protagonista con la Notte delle Paure Un appuntamento che non può mancare nell'estate di tutti gli abruzzesi ma non solo Beh no non può mancare anche perché stranamente a questo punto lo dico Visto anche la realtà e la poca disponibilità di persone Noi siamo veramente quattro gatti nel nostro paesello Siamo riusciti anche quest'anno tra l'altro il ventennale Quindi un'occasione un po' particolare a mantenere questo evento Che io credo sia abbastanza non voglio essere presuntuoso Ma abbastanza originale e unico Assolutamente sì Sia a livello regionale che anche forse in maniera più ampia nell'Italia diciamo Ventesima Notte delle Paure con lo spettacolo In Fausto Pianeta Leofaro la regia è di Gianluca Bondi In Fausto Pianeta teatro come metafora della vita si parte da qui Sì questa è proprio una grande metafora della vita Cioè nel senso che lavoreremo con meta teatro Cioè sarà un viaggio per lo spettatore insieme agli attori Che vengono da un altro pianeta questa volta Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere delle giornate diverse a Leofaro In questa Notte delle Paure Sì diciamo che il posto è suggestivo Infatti quando abbiamo pensato comunque a Leofaro, al Fausto Cioè diciamo che è proprio il posto giusto Perché è un testo suggestivo pieno di suggestioni, di immagini archetipiche Quindi cosa meglio di un paese abbandonato, delle vecchie La location ideale La location ideale, sì assolutamente Ecco grande originalità ma anche grande lavoro da parte vostra per preparare questo tipo di spettacolo Sicuramente sì anche perché senza un grande impegno, una grande professionalità Un lavoro costante e preciso L'originalità diventa banalità o approssimazione E non abbiamo voglia di essere approssimativi o qualunquisti in un posto così bello Perché Leofara per quanto si possa pensare che sia un poesino Un borgo abbandonato comunque è un posto carico, carichissimo di poesia Perciò dobbiamo e vogliamo essere all'altezza di 5 giornate, 5 serate e 5 spettacoli così belli E un omaggio a Gabriele D'Annunzio Il recital umide ombre remote Promosso venerdì 8 agosto dall'amministrazione comunale di Campli L'evento si svolgerà alle 21 presso il Museo archeologico nazionale in piazza San Francesco Dalla voce recitante di Umberto Fabi e con l'accompagnamento al pianoforte di Paolo Di Sabatino Saranno declamate alcune delle poesie più suggestive del D'Annunzio in chiave jazz Per l'occasione sarà possibile visitare il museo nelle ore serali fino alle 23 Presentata questa mattina la 43esima edizione della Sagra del Prosciutto abruzzese In programma a Basciano da domani e fino al 10 agosto Previsti numerosi spettacoli musicali e la gara di Dubot Vediamo Vincenzo Proce, presidente della Proloco, torna a un appuntamento che non può mancare La 47esima Sagra, sono tanti 47 edizioni? Sono all'inizio però Ricordo che nel 68 quando siamo partiti, era poi con più ventenne Siamo partiti con un certo Ci sta a cambio, l'anno scorso hanno fatto la Sagra Noi partiamo Siamo partiti col piede giusto Si sta verificando il caso che professionisti che lavorano a Bologna Langiano Sparsi anche in più parte d'Italia Il periodo della Sagra a Basciano Ovviamente il protagonista è il prosciutto abruzzese Prosciutto non si discute mai Anche perché abbiamo un prosciutto che il maiale deve nascere in Italia E' essere allevato in Italia, matato in Italia, confezionato in Italia e almeno 18 mesi di stagionatura Deve arrivare allo stand integro, cioè con l'osso, e poi viene spolpato Più di questo insomma la genuinità c'è Appuntamento dal 6 al 10, vogliamo ricordarlo ai nostri tre spettatori Dal 6 al 10, 8 di agosto Assessore del BIM Antonio Ioannone, la Sagra del prosciutto è particolare, no? È vero che non bisogna essere di parte, però questa si distingue Beh sì, è una, come diceva il presidente e l'assessore prima È una Sagra che compie 47 anni È una delle più vecchie dell'Abruzzo Molto partecipata perché viene partecipata da molta gente E quindi ha il BIM, ha il dovere anche di partecipare E di dare una mano per questa manifestazione Cosa ha questo prosciutto di Basciano più degli altri? Ma qui sono un po' di parte perché sono di Basciano Quindi il prosciutto di Basciano ha un qualcosa in più Ma a parte quel qualcosa in più, diciamo, del prosciutto perché è buono Ma soprattutto ha un qualcosa in più il clima dove si viene gustato questo prosciutto Assegnati i premi per la rassegna di arte contemporanea Creaction organizzata dall'associazione Bellantarte Il primo premio è stato assegnato a Giustino Novello di Chieti Il secondo premio è andato a Marco Pace di Teramo Mentre ex equo al terzo posto si sono classificati Inno Michele di Sernia, Antonio Civitarese di Chieti, Giuseppe Vecchio di Latina, Antonio Mazziale di Campobasso L'organizzazione della Sagra delle Rane in corso a Fontanelle di Atri Avvisa ai cittadini che questa sera la Sagra si svolgerà regolarmente dopo l'acquazione di oggi Infatti il tempo è migliorato e quindi sarà possibile partecipare all'ultima serata prevista Nell'ambito della Sagra delle Rane a Fontanelle di Atri A proposito di tempo vediamo cosa si prevede per la giornata di domani Previsioni per domani in Abruzzo Al mattino poco nuvoloso sulle zone collinare e montane Poco nuvoloso sulle zone litorane Nel pomeriggio poco nuvoloso sulle aree appenniniche Sereno sulle aree costiere Tra sera e notte sereno sui rilievi Sereno sui settori adriatici Temperature in lieve diminuzione Massime comprese tra 24 e 27 gradi nelle conche aquilane e marsicane Tra 26 e 29 gradi sulle pianure adriatiche Venti moderati settentrionali Mare poco mosso In provincia di Teramo Al mattino nubi sparse su gran parte del territorio provinciale Più intense lungo la dorsale appenninica Dove non sono esclusi isolati rovesci Tra pomeriggio e sera schiarite Sempre più ampie Fino ad estesi rasserenamenti entronotte Temperature stazionarie Massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle pianure dell'entroterra Tra 27 e 30 gradi sulle coste Venti moderati settentrionali Mare mosso poco mosso Grande soddisfazione in casa Teramo Calcio Per l'inserimento della formazione bianco-rossa Nel girone B della prossima Lega Pro Unica In arrivo anche un campionato spezzatino Con anticipi al venerdì, al sabato E posticipi domenica sera e lunedì sera Abbiamo ascoltato il direttore generale Gianluca Scacchioli Che fa il punto della situazione Gianluca Scacchioli Possiamo dire direttamente dall'assemblea di Lega Una giornata intensa Alla fine sono arrivati i tre gironi Al Teramo possiamo dire che è andata bene Era il girone che il Teramo voleva Ma soprattutto quello che meritava Perché si è rispettato il criterio geografico Sì, una giornata lunga Nel senso che è iniziata ieri alle 10 Per i presidenti che hanno dovuto votare il consiglio E poi dopo successivamente il consiglio si è riunito Per formare i gironi E le prime notizie erano un po' sconfortanti Perché diciamo che quasi ufficiosamente Dicevano che il Teramo si sarebbe sostituito Il Teramo e il Lago avrebbero sostituito Ischia e Salernitana Che sarebbero passate nel girone Sarebbe stato un po' un'ingiustizia Non c'era un vero motivo No, un motivo non c'era C'era una pressione da parte di qualche presidente Soprattutto in particolare Lutito, la Salernitana Faccio il nome perché poi la cosa è stata così evidente Che lui addirittura si è sentito in dovere Di presidenziare anche all'interno del consiglio Parlo di Lutito E quindi le prime persone davano delle notizie Che per noi erano sconfortanti Però in questo senso poi invece È prevalsa la considerazione Credo anche nei confronti del Teramo Che era l'unica società del girone Di centrale presente Lì, ieri in riunione I consiglieri hanno cercato di fare le cose per bene Ci hanno seguito il criterio geografico E ci hanno detto che hanno spinto poi 5 consiglieri su 8 Affinché il Teramo e l'Aquila facessero il girone B Che era il girone che di fatto appartiene al Teramo Ecco, si partirà il 31 agosto La settimana prossima usciranno i calendari Vogliamo chiarire anche questo discorso Ieri tanti rumor sugli orari di inizio delle partite Se parlo di un anticipo al venerdì Uno al sabato Che cosa c'è di concreto? Sì, questa invece è una riunione fatta qualche settimana fa A Bologna Una sezione staccata di Bologna Dove ci dissero, parlando in federazione Che quest'anno la serie C Per gli accordi televisivi Farà degli anticipi il venerdì, il sabato, domenica e anche lunedì sera Quindi pertanto dovranno definire bene ancora gli orari, i calendari Un po' tutto Quindi la cosa non sarà semplice Però c'è un anticipato che la giornata sarà lunga Dal venerdì al lunedì Saranno rivisti pure gli orari E pare che ci sia ancora da definire Un'autonomia anche societaria Stabilire l'orario poi Se la domenica possiamo decidere se le tre o le sei Ancora potrebbe essere autonomia della società Però la cosa sostanziale è che si può giocare il venerdì Si può giocare il sabato, la domenica e anche il lunedì Quindi quest'anno per questioni televisive Allungheranno la giornata Insomma, quindi tutto lì Questa è la cosa principale Competitività del girone per chiudere? Ma questo è un po' il cavallo di battaglia del nostro presidente Che in mezz'ora ha avuto sempre un entusiasmo alto Però è chiaro che il girone è C Quindi quello del sud un po' lo preoccupava Perché ci sono delle piazze Inutile dire Casertana, Lecce, Salerno Insomma, tutte piazze importanti Non che nel centro non ci siano Però ci sembra un girone un po' meno focoso Poi in realtà sono tutte squadre attrezzate E proprio in vista del nuovo campionato Il sindaco Maurizio Brucchi lancia l'appello ai tifosi del Teramo Abboniamoci e crediamo in questa squadra E in questa società, ascoltiamolo Sindaco Brucchi, ripresa la preparazione del Teramo Primi amichevoli, primi risultati positivi C'è stata la sconfitta ai rigori con il Pescara Ma dopo una buona prova Insomma, le premesse sembrano esserci tutte per un buon campionato E poi la presentazione ufficiale L'entusiasmo sembra quello dei giorni migliori Sì, mi sembra che c'è un bel entusiasmo intorno alla squadra D'altra parte, quello che il Presidente Campitelli è riuscito a fare Nel giro di qualche anno Riportare la squadra in Lega Pro Credo che sia un grande risultato Da parte mia, insomma, in quest'anno cercherò Di essere più vicino alla Teramo Calcio Ma a tutte le squadre che portano Diciamo, il nome della nostra città Il di fuori delle mura cittadine Mi ha chiesto qualcosa il Presidente Campitelli per la nuova stagione? Il Presidente mi ha chiesto questo Mi ha chiesto vicinanza Io lo farò Insomma, inviterò anche i cittadini terramani ad essere vicini alla squadra Il famoso dodicesimo giocatore è il pubblico Ci sono tutti i presupposti per andare a vedere belle partite Allo stadio Bonolis Quindi un invito ai cittadini Facciamo l'abbonamento Abboniamoci alla Teramo Calcio Siamo vicini anche alle altre squadre C'è anche il San Nicolò Che comunque ha fatto un buon campionato Ed è stata promossa così anche alle altre squadre degli altri sport Voglio dire, a tutto lo sport terramano In particolare alla Teramo Calcio Di preto che è quella che in questo momento Rappresenta a livelli più alti la nostra città Quindi da parte mia Maggiore vicinanza Maggiore presenza E in bocca al lupo alla Teramo Calcio Insomma, i presupposti sono buoni E speriamo che siano di buon auspicio L'Aquila Calcio Respinge fermamente Qualsiasi ipotesi di modifica Della composizione dei gironi Paventata da alcuni organi di informazione Pur non supportato allo Stato Da alcunché di concreto e reale Il cambiamento costituirebbe Un gravissimo sfregio Alla legittimità dell'unico organo ufficiale Democraticamente eletto Ovvero il Consiglio di Lega Che ha sancito la composizione Appare paradossale Prosegue la società aquilana Che organi esterni, pur autorevoli Possano ribaltare il verdetto Ancor più aducendo presunti motivi di sicurezza Nell'epoca degli stadi senza barriere Della partecipazione dei tifosi Alla vita delle società La modifica degli assetti dei campionati Rappresenterebbe un indubbio passo indietro Ed una pericolosa deriva Appresso il via ieri pomeriggio La campagna iscrizioni Per quanto concerne la scuola calcio In vista della stagione sportiva 2014-2015 Della FC Bonolis di Teramo Diverse già le famiglie Che hanno aderito al nuovo progetto sportivo Fortemente voluto da Massimo d'Aprile E dai soci Giacomo Ciutti Luca Di Domenico E Antonio Luzzi Proseguiranno anche domani Mercoledì 6 agosto Le iscrizioni con segreteria Aperta dalle 15 alle 19 Mercoledì 6 e giovedì 7 agosto Dalle 21 e 30 Sulla terrazza del Palazzo Cursars Sul lungomare Zara Giulianova Lido La SD Giuliesi per sempre Presenta la manifestazione Il cuore nel pallone Nel corso di ciascuna Dalle due serate Saranno proiettate in sequenza Circa 370 immagini fotografiche De Giulianova Calcio Fino agli anni 80 Ed in successione I video di partite Che rimarranno nella memoria Del calcio Giuliese Altri due nuovi arrivi Per la nuova HF Teramo Dopo quello di Zucchi Pastor Parliamo chiaramente Di pallamano femminile Sono le sorelle cilene Naturalizzate italiane Daniela e Belen Canessa Perez Rispettivamente Pivot Di 28 anni E Ala di 24 La società del manager Roberto Canzio Le ha riunite in maglia Bianco-Rossa Seguiamo il servizio La società nuova HF Teramo Ufficializza di aver raggiunto L'accordo per il campionato 2014-2015 Con le atlete cilene Di nazionalità italiana Daniela Canessa Perez Classe 86 Pivot E Belen Canessa Perez Classe 90 Ala La prima ha già disputato Il campionato italiano Con Nuoro e Sassari Mentre la seconda E alla sua prima esperienza In Italia Entrambe sono titolari Della nazionale cilena Con la quale hanno partecipato A diverse competizioni E con la quale hanno disputato I mondiali in Cina Nel 2009 Mentre nel 2014 A Santiago del Cile Partecipando ai giochi Sudamericani Hanno ottenuto il bronzo E la qualificazione Per i giochi Panamericani Di Toronto 2015 Sono molto contenta Spiega Daniela Di iniziare la mia terza stagione Nel campionato DIA 1 italiano Prendo questo impegno Con molta passione E serietà Nella speranza Di raggiungere Importanti risultati Con Teramo Personalmente Sarà una nuova esperienza E diversa Visto che in precedenza Ho sempre giocato Con squadre della Sardegna Dove ho trovato Persone speciali Che porterò sempre nel cuore Sono fiduciosa Per la nuova stagione E giocando insieme A mia sorella Belen Sarà tutto più bello Per Belen Si tratta Di una grandissima opportunità E di un sogno Come atleta Poter disputare Il campionato DIA 1 italiano E sarà ancora più emozionante Condividere questa esperienza Con mia sorella Daniela Ha detto E torna Questa sera Punti di vista La trasmissione condotta Da Manuel Pantalone Ospite Il consigliere comunale Di Pescara Del Movimento 5 Stelle Massimiliano Di Pillo E' la prima volta Che un esponente Pescarese Dei Grilini Partecipa Ad una trasmissione Televisiva L'appuntamento E' subito Dopo la sigla Del nostro telegiornale Dunque alle 20 Grazie per l'attenzione L'informazione Torna invece domani Alle 14 Buona serata Grazie per la visione